E' proprio il caso di dire che fervono i preparativi, ci sono gli ultimi ritocchi per la quarta edizione dell'Ona Trail, in programma domani un grande lavoro anche a livello organizzativo. Diciamo di sì perché quest'anno abbiamo superato il record dell'anno scorso, abbiamo toccato il tetto di 500 partecipanti, 200 su quella lunga e 300 su quella corta, siamo molto soddisfatti del nostro lavoro che stiamo svolgendo. Tu non sarai al via della gara visto che sei tra gli organizzatori, campo partenti chi ci sarà? Campo partenti è molto alto perché comunque c'è una fitta squadra che viene dalla Bergamasca, quella che ha vinto l'anno scorso, Bellingheri, poi ci sarà il giovane di casa che è Boggialli Riccardo e poi per quanto riguarda la femminile sempre non si l'abbia l'Emanuela Brizio che comunque lei sempre viene al nostro evento. Caldo, fatica e poi però relax proprio qui al Lago delle Rose. Sì perché secondo me questa location qua è veramente molto suggestiva, non ci sono macchine, le famiglie possono venire tranquillamente a divertirsi e spero che sia una grande festa prima, durante ma soprattutto dopo. Damiano parliamo un po' di questo percorso, partenza da qui e poi si comincia a salire. Sì, sono sempre due percorsi come l'anno scorso, uno a 34 e 2200 metri di dislivello, sono cinque le salite che affronteranno i corridori, percorso sistemato in maniera ottimale dal corpo volontario IB di Ornavasso, quindi è fatto lavoro splendido, segnato in maniera ottima e il percorso a 17 chilometri invece con circa 1200 metri di dislivello. Invece novità di quest'anno, sempre con partenza alle 9.30, subito dopo la gara da 17, ci sarà un percorso da 8 chilometri di camminata con i bastoni, nordic walking, e il percorso si svolgerà sempre sulla linea Cadorna che è la nostra base di partenza per le gare e poi si svolgerà sulla parte bassa del paese, Castello Vecchio nella zona della chiesa parrocchiale fino a poi l'arrivo sempre qua al Lago delle Rose. Insomma anche tu non correrai, però per te questa è una gara un po' speciale, no? visto che si ricorda a tuo papà. Sì, è una gara speciale, il memorial a mio papà. Diciamo che i numeri che abbiamo fatto quest'anno sono la prova che quando si lavora bene tra amici i risultati vengono, quindi bello, siamo soddisfattissimi. Domani il tempo, dicono tutti che sarà bellissimo, speriamo perché sarebbe proprio la ciliegina sulla torta di tutta quest'annata.